E BUONASERA! E che ci sarà di buona questa sera? Previsione del tempo? Piove! Allora, di che parliamo oggi? Allora, parliamo di politica, perché come fai? La politica governa tutto, regge le cose del mondo, no? Eh, sì, sì. Allora, parliamo subito del tweet di Salvini. Perché no? L'emblema della politica italiana, è vero. Salvini questa mattina ha fatto un tweet. Ha detto, non posso parlare del Milan? No, prima ha detto, testa bassa, lavoro, telefono, i solidarietari abitanti dell'Emilia e della Romagna. Eh, per il Milan, nessun pensiero, vista la prestazione scialba. Cioè, in un tweet, ha unito la tragedia nazionale alla tragedia personale del tifoso milanista. Poi tutti a ravanare intorno al tweet di tutta la giornata intorno al tweet. Però poi ha dato ragione a chi ha ravanato, perché l'ha cancellato. E quindi, voglio dire, ha doppio errore. Ha doppio errore. Doveva perseverare e dire, io sono convinto della fregnaccia che ho detto. Il problema è che il tweet, lui, non ha pagato. Tu sai che il tweet, lui, è diventato con la spunta blu, tu paghi. E Twitter ti dà 5.000 caratteri. Non paghi, 160 caratteri. Sicuramente Salvini è un tirchione, con 160 caratteri, sei incartato. Devi dire tutto. Devi dire, ha dovuto dire tutto, con il suo contrario. Eppure oggi abbiamo parlato. Di Salvini. Ha raggiunto il suo obiettivo. Chiaramente sì. Perché, chiaramente, politicamente, Salvini è il nulla cosmico. Per parlare di lui, bisogna parlare delle sue minchiate. Grazie.